Elon Musk, l'uomo che ha inventato Tesla Elon Musk, l'uomo che ha inventato anche l'azienda aerospaziale SpaceX Elon Musk, l'uomo che ha costituito anche l'azienda Boring Company che tra le tante cose fa anche il lanciafiamme Elon Musk, l'uomo che a volte ti chiedi ma ci è o ci fa? Oggi parleremo proprio di lui perché si è parlato negli ultimi giorni del fatto che Tesla per l'appunto inventato da Musk non accetti più come metodo di pagamento i Bitcoin e in questo argomento ci sono un sacco di cose interessanti da dire e quindi lo faremo proprio oggi ma innanzitutto partiamo dall'inizio come mai Tesla ha accettato come metodo di pagamento i Bitcoin? La storia in realtà è abbastanza fresca infatti si parla dei primi mesi del 2021 da quando Elon Musk ha deciso di abbracciare la battaglia delle criptovalute in questi mesi ha scritto molti tweet a favore innanzitutto del Bitcoin e poi successivamente ha spinto anche molto sul Dogecoin facendo anche un sacco di meme al riguardo perché internet è un posto fantastico addirittura notizia dell'ultimo momento è il fatto che vorrà con la sua missione sulla Luna di SpaceX mandare anche un Dogecoin sulla Luna e quindi praticamente realizzando un meme che è Dogecoin to the Moon questi tweet in realtà hanno fortemente influenzato il mercato lo possiamo vedere anche dai grafici molti dei picchi verso l'alto e anche verso il basso sia di Bitcoin che Dogecoin sono proprio dovuti principalmente ai tweet di Elon Musk che ha fortemente condizionato il mercato di queste criptovalute voi vi state chiedendo ma da dove hai preso questi dati? beh da Crypto.com che è anche lo sponsor di oggi Crypto.com è un'app che svolge la funzione di exchange di criptovalute quindi praticamente un mercato delle criptovalute dove voi potete acquistare e vendere numerose criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e tante altre l'app è molto semplice e intuitiva da utilizzare può essere denominata in euro per rendere i vostri calcoli molto più semplici si possono acquistare e vendere come abbiamo detto molte criptovalute e l'acquisto da una criptovaluta all'altra è totalmente gratuito e anche l'acquisto dalla moneta fiat alla criptovaluta è totalmente gratuita gli unici costi di commissione sono quando voi andrete a convertire una qualsiasi criptovaluta in moneta fiat però tutti i costi di commissione sono ben specificati all'interno dell'app ho già fatto tre video che vi consiglio di recuperare dove parlo sia dell'app sia del mondo delle criptovalute non escludendo anche delle critiche nonostante lo sponsor che permette a questo show di andare avanti ho anche un codice sconto per voi e cioè Whatsapp Economy che vi permette di ottenere 25 dollari bonus durante il momento dell'iscrizione se otterrete anche la carta prepagata di Crypto.com che vi permette di acquistare qualsiasi cosa nel mondo reale tramite il vostro portafoglio di criptovalute se volete entrare in questo mondo però vi consiglio di informarvi anche grazie ai miei video perché è un mondo che può riservare anche delle brutte sorprese quindi è fondamentale essere consapevoli di quello che si sta facendo quindi abbiamo visto come Musk si è praticamente impazzito per le criptovalute che addirittura il 15 marzo ha cambiato nome all'interno dell'azienda Tesla facendosi chiamare Technoking of Tesla mentre il CFO cioè il direttore finanziario dell'azienda Tesla ha cambiato nome in Master of Coin per farvi capire quanto questi qui ormai ci credevano così tanto nelle criptovalute addirittura nel mese di febbraio Tesla ha acquistato Bitcoin facendo schizzare il suo valore enormemente e ha anche promesso proprio in quel momento che avrebbe accettato i Bitcoin come strumento di pagamento per acquistare le proprie macchine però poi arriva il 13 maggio e Elon Musk di nuovo sul suo profilo Twitter annuncia che Tesla non accetterà più i Bitcoin per acquistare le proprie macchine in quanto Elon Musk afferma che i Bitcoin hanno un enorme impatto ambientale a causa del mining dei Bitcoin e del tutto il supporto dell'infrastruttura che è molto energivora questa storia è molto interessante e mi ha fatto nascere molti spunti di riflessione che vorrei condividere con voi ma innanzitutto partiamo dalle basi cioè quello che dice Elon Musk e cioè che i Bitcoin sono fortemente inquinanti è un'affermazione corretta? scopriamolo per rendere possibile la decentralizzazione di questa moneta il Bitcoin utilizza un meccanismo un processo che viene chiamato proof of work che richiede molta energia per realizzarlo l'università di Cambridge stima che in un solo anno il sistema Bitcoin possa consumare un'energia di 14,68 gigawatt dove un gigawatt sta per un miliardo di watt ma lo so, né a me e neanche penso a voi significa granché questa cifra quindi vediamo di paragonare il Bitcoin a qualcosa di più concreto ecco, di nuovo l'università di Cambridge ci dice che il Bitcoin in un anno può consumare poco più dell'intero stato del Netherlands, degli Paesi Bassi oppure ancora Cambridge ci dice anche che l'intera energia consumata dai Bitcoin in un anno può scaldare i bollitori per il tè inglese per ben 33 anni oppure quelli europei per 5 anni che è una cosa che fa un po' ridere se vogliamo è un po' come se la Bocconi come metodo di paragone decidesse per quanti anni gli italiani possono mangiare pasta grazie all'energia consumata dai Bitcoin insomma, gli stereotipi si spregano in questo senso quindi sì, Bitcoin consuma tanta energia a causa del suo meccanismo di funzionamento ma è l'industria che consuma più energia al mondo? beh, in realtà no ad esempio se prendiamo i sistemi di pagamento tradizionali come Visa o Mastercard vediamo che consumano molto di più rispetto al Bitcoin anche se, per dirla tutta, eseguono anche molte più transazioni rispetto al Bitcoin oppure ancora, se prendiamo i soli Stati Uniti e calcoliamo quanta energia consumano i dispositivi elettrici che noi lasciamo in stand-by quando c'è la spia lampeggiante vediamo che consumano nei soli Stati Uniti una volta e mezzo rispetto a tutta l'energia utilizzata dal Bitcoin in un anno quindi sì, ma ci sono anche tanti altri spreghi che possono essere sicuramente ottimizzati e questo non per giustificare i consumi del Bitcoin è solo per mettere un po' le cose in prospettiva ma qui si sta parlando di consumo di energia, di kilowatt non si sta parlando di inquinamento e di CO2 e allora come si fa a capire se il Bitcoin effettivamente ha un forte impatto verso l'ambiente? è un meccanismo complesso da fare ma semplice da spiegare cioè si vede dove principalmente si produce il Bitcoin e si vede quali fonti energetiche vengono utilizzate per produrre energia per poi minare i Bitcoin al contrario delle favole che ci raccontano i sostenitori delle criptovalute di una moneta decentralizzata disponibile a tutti, democratica, eccetera, eccetera in realtà, soprattutto per il Bitcoin, questo non vale infatti la nazione in cui si produce maggiormente il Bitcoin è proprio la Cina e addirittura ci sono delle aziende specializzate che producono appunto questo Bitcoin che vengono chiamate le pool mining c'è delle aziende che producono la maggior parte dei Bitcoin al mondo quindi non c'è più quella favola che tu all'interno del tuo sgabuzzino mini Bitcoin è assolutamente marginale questa storia qui quindi abbiamo trovato i punti nevralgici dove si produce maggiormente il Bitcoin adesso bisogna chiederci come viene prodotta l'energia che poi viene utilizzata per produrre Bitcoin ebbene in Cina la fonte energetica principale è il carbone la fonte energetica probabilmente è più inquinante tra tutte quelle che esistenti al mondo e quindi possiamo dire con una certa certezza anche se è molto difficile fare dei calcoli accurati che sì, il Bitcoin non solo consuma tanta energia ma questa energia proviene anche da fonti non pulite a sostegno di questa tesi possiamo citare anche un altro evento successo tra il 17 e il 18 aprile proprio di quest'anno dove all'interno di una regione cinese una miniera di carbone fu allagata e questo produsse un blackout dell'intera regione di conseguenza anche un terzo di tutta la potenza computazionale dei Bitcoin del sistema Bitcoin fu completamente rasa al suolo per qualche giorno e questo evento lo possiamo vedere anche nella valutazione del Bitcoin dove proprio in quei giorni subì una forte discesa quindi sì, quello che ha detto Elon Musk è vero il sistema Bitcoin molto probabilmente è un sistema molto inquinante ma è tutto finito? È tutto irrimediabile? in realtà no, infatti se vediamo le risorse che vengono utilizzate in Cina per produrre energia vediamo come pian piano negli ultimi anni anche la Cina si stia impegnando a ridurre le quote di carbone utilizzate per delle fonti energetiche molto più pulite quindi attualmente potrebbe essere sicuramente molto inquinante ma potrebbe avere delle prospettive molto più pulite un'altra soluzione per rendere il Bitcoin più green potrebbe essere cambiare algoritmo dal già citato proof of work al più efficiente a livello energetico proof of stake ma quello che vi ho detto fino ad adesso è una mia rivelazione non si sapeva nulla fino ad adesso? in realtà no, addirittura io nel mese di ottobre credo quando feci il primo video sui Bitcoin sottolineai proprio questo aspetto di quanto il Bitcoin richiede un sacco di energia per sostenersi e comunque quelli che più o meno masticano quest'ambiente sanno queste problematiche anche energetiche e di conseguenza anche ambientali e quindi non mi aspetto che Elon Musk che da mesi sostiene questa battaglia per le criptovalute abbia scoperto da un giorno all'altro dopo aver implementato nel suo sistema di pagamenti il Bitcoin scopra così da un giorno all'altro che il sistema Bitcoin abbia dei problemi ambientali e qui insomma ne vorrei parlare anche con voi quindi sono abbastanza certo di escludere questa ipotesi che l'abbia scoperto solo adesso e quindi le risposte in campo che giustificano la scelta di Elon Musk possono essere semplicemente due o una strategia di marketing oppure una scelta presa d'impulso per quanto riguarda la strategia di marketing beh può esserci abbiamo parlato in un precedente video della finanza etica di quanto la finanza si stia facendo sempre più attenta riguardo gli aspetti ESG cioè environmental, social and governance cioè tutti quegli aspetti che rendono le società e le aziende più sostenibili non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale e quindi in questo senso può esserci una riconversione di Tesla riguardo appunto una facciata molto più green in quanto appunto hanno spinto molto riguardo alla conversione di tutta l'industria automobilistica che è anche quella molto inquinante quindi è un po' un controsenso fare delle macchine elettriche che consumano poca energia per poi vendere queste macchine con un sistema di pagamento altamente inquinante quindi può esserci un come risposta una risposta di marketing l'altra risposta che secondo me forse è un po' più convincente è quella di una scelta d'impulso cosa che tra l'altro non è assolutamente nuova per Elon Musk infatti se andiamo a vedere un po' la storia passata di Elon Musk soprattutto i suoi tweet in ambito finanziario vediamo quanto i suoi tweet hanno influenzato fortemente la valutazione di Tesla sia in positivo che in negativo e tutto ciò ha anche obbligato Elon Musk a delle multe da parte della SEC che è un'organizzazione che controlla il sistema finanziario statunitense e addirittura ormai da qualche anno Elon Musk non può più scrivere un tweet riguardo Tesla senza prima essere stato approvato questo tweet da parte del consiglio di amministrazione di Tesla Elon Musk è un po' uno spirito libero quindi sono anche abbastanza prevedibili questi annunci che ribaltano una situazione che lui stesso aveva creato ed è questa è una cosa molto interessante che richiama anche l'intro quindi Musk secondo voi ci è o ci fa? perché io ogni sempre più spesso me lo chiedo inoltre non ho citato a caso gli eventi successi a Musk da parte della SEC la regolamentazione finanziaria e i tweet che da adesso devono essere appunto approvati in quanto abbiamo visto quanto Musk abbia influenzato il valore di Tesla e abbiamo visto all'inizio puntata quanto Musk abbia influenzato anche il valore di Bitcoin e a maggior ragione quello dei Dogecoin e qui vorrei aprire un altro discorso da condividere con voi e cioè il parallelismo tra un mercato finanziario regolamentato e uno non regolamentato infatti i sostenitori delle criptovalute citano sempre il fatto che le criptovalute siano uno strumento monetario decentralizzato e questo lo reputano un grande vantaggio ma in realtà vedendo gli ultimi mesi degli andamenti delle criptovalute in particolar modo del Bitcoin stanno veramente così le cose? è veramente decentralizzato? è veramente in mano a tutti questo strumento? innanzitutto abbiamo visto quanto il mining dei Bitcoin sia fortemente centralizzato soprattutto in alcuni stati soprattutto cinesi, medio orientali dall'altra parte abbiamo visto quanto le quotazioni di questa criptovaluta siano influenzate da poche persone tra cui proprio Elon Musk che fa quello che gli pare e non c'è nessuno che può dirgli di stare zitto o di comportarsi in un determinato modo proprio perché il mercato delle criptovalute non è un mercato regolamentato e questo è un grande svantaggio se vogliamo se infatti riprendiamo l'episodio della SEC Elon Musk e dei tweet riguardo Tesla SEC ha multato Elon Musk perché molte persone che hanno investito i propri soldi su Tesla hanno subito delle perdite non a causa degli andamenti economici di Tesla ma a causa delle dichiarazioni di una persona di uno spirito libero come avevo detto che non sa starsi zitto e questo è molto ingiusto e oltre ad essere molto ingiusto può provocare anche dei danni economici perché veramente a quel punto le persone per investire nelle società devono anche farsi il segno della croce e sperare che il SEO non impazzisca questo è un grande vantaggio dei mercati regolamentati e possiamo vedere quanto dall'altra parte i mercati non regolamentati possono fare il bello e il brutto tempo in base ai voleri di alcune persone ad esempio vediamo come il Bitcoin anche dopo l'ultima dichiarazione abbia avuto un forte calo della propria valutazione dall'altra parte di nuovo ha fatto ulteriori tweet dopo il 13 maggio Elon Musk dicendo che potrebbe adottare il Dogecoin al posto del Bitcoin come metodo di pagamento e anche lì il Dogecoin ha subito una forte crescita dopo aver subito prima una forte decrescita proprio a causa di Musk che ha definito il Dogecoin un imbroglio e quindi alla fine il mercato è vero non è regolamentato ma in fondo la quotazione la decide Elon Musk o altri attori che entrano nel mercato e tutto ciò ha dei vantaggi veramente? e a causa di questi comportamenti ancora più forti si stanno facendo le voci riguardo appunto sul regolamentare questi mercati non regolamentati ma non per una posizione ideologica sul fatto che lo Stato deve avere il potere di controllare tutto e tutti ma molto spesso più che altro per una tutela verso gli cittadini normali che investono in asset finanziari cosa che è estremamente importante addirittura all'interno della Costituzione c'è scritto che il risparmio deve essere tutelato ad esempio come il risparmio deve essere tutelati anche molto spesso anche gli altri asset finanziari e mi sembra alquanto ingiusto che una persona possa decidere come gli pare come influenzare il mercato e quindi può comunque coinvolgere anche le ricchezze economiche di milioni e milioni di persone oltre a questi due aspetti che sono molto interessanti e vorrei avere una vostra opinione c'è anche l'aspetto speculativo infatti anche alcuni di voi su Instagram mi hanno detto che magari l'ha fatto con una mossa speculativa che potrebbe anche essere infatti ad esempio proprio Tesla qualche mese fa ha acquistato una grande quantità di Bitcoin e poi qualche mese dopo facendo aumentare di nuovo influenzando il mercato e quindi facendo aumentare il prezzo del Bitcoin e poi qualche mese dopo ha rivenduto una parte di questi Bitcoin generando un guadagno che è una grande fetta del guadagno generato nell'ultimo trimestre di Tesla quindi se vogliamo ha guadagnato più facendo lo speculatore finanziario Tesla che vendendo macchine nell'ultimo trimestre e quindi alcuni pensano che questa ulteriore mossa sia stata fatta solo in senso speculativo tra l'altro decidere di poter vendere le proprie auto con i Bitcoin non ha neanche più di tanto senso in quanto quelli che veramente credono al progetto Bitcoin sono degli hodler si direbbe in termine tecnico quindi tengono il più possibile i Bitcoin tendono a non spenderli perché sperano appunto e credono anche che il valore del Bitcoin possa salire sempre di più in futuro e quindi sarebbe una follia per loro spendere un Bitcoin per una macchina Tesla dall'altra parte le persone comune difficilmente hanno un Bitcoin da poter spendere per acquistare una macchina quindi io sono molto curioso di sapere quante macchine effettivamente Tesla abbia venduto grazie all'acquisto tramite Bitcoin secondo me molto poche e di nuovo rientriamo magari a una scelta da parte di Tesla molto più di marketing o di impulso da parte di Elon Musk più che a una cosa ragionata pensata che possa funzionare effettivamente anche nell'economia reale quindi spero di avervi detto tutto ci sono un sacco di spunti di riflessione quindi vi aspetto nei commenti ringrazio gli abbonati che mi sostengono in questa attività e anche Crypto.com con il codice sconto Whatsapp Economy se volete entrare in questo mondo facendo sempre molta attenzione detto ciò vi ringrazio e vi saluto alla prossima Ciao 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 Ciao